ania taylor joy sarà elsa nel remake live action di frozen cosa sappiamo al momento in attesa di frozen 34 annunciati ufficialmente dalla disney la saga va avanti ma ci mancherebbe una delle saghe di maggior successo soprattutto per quanto riguarda il merchandising in queste ore è tornata in auge la possibilità di vedere un giorno il remake live action di frozen del quale si era parlato qualche tempo fa come uno dei titoli in cantiere in casa disney l'attrice di furiosa mermak saga e dune infatti in una recente intervista con vog hong kong ha rivelato che il suo ruolo da se da sogno in disney è proprio quello di elsa la regina delle nevi al centro della saga animata da di frose di cui le figlie dei suoi fratelli sono grandissimi fan tra l'altro voglio davvero fare un musical perché sono un po' troppo ossessionata dal mio attuale lavoro amo la sfida di portare a termine compiti impossibili ma è bene penso che sia incredibilmente motivante per me quindi l'idea di poter cantare ballare recitare allo stesso tempo è davvero emozionante per me sempre che tu lo sappia fare però io non ho mai visto cantare ballare recita allo stesso tempo anna del gioco spero che possa avere la stessa qualità attoriale e la stessa qualità che ha semplicemente recitato io ve lo dico da persona che apprezza anna del gioco e la segue dai tempi di the witcher penso che the witch scusate di eggers penso che un live action di frozen sarebbe fantastico sparare cubetti di ghiaccio alle mani può essere molto divertente ecco forse questa frase poteva sparare e sarei la preferita sarei la preferita la festa di compleanno di ogni bambino tutti i miei fratelli hanno figli ora quindi mi piacerebbe che potessero vantarsi con gli amici e dire mia zia elsa sarebbe fantastico questo è molto è molto dolce come cosa una versione live action di frozen è un argomento di discussione perenne fra i fan del fra i fan del franchise ma la disney non ha mai confermato i piani per un adattamento dal vivo del famoso film d'animazione come detto la disney attualmente concentra su frozen 3 e 4 con il primo programmato per uscita per l'uscita nel 2027 allora quando un attore fa affermazioni come queste vuol dire che gatta ci cova ve lo dico per esperienza vuol dire che qualcosa si sta muovendo altrimenti è difficile che si aprirebbero a fare delle delle affermazioni così importanti lei ha detto chiaramente voglio essere frozen ha detto uno dei miei sogni potrebbe essere vuol dire che gatta ci cova va bene questo è abbastanza chiaro ovviamente dal gatta ci cova al confermare il progetto ce ne passa è bella bella cioè quindi è bella e c'è una bella differenza quindi fin quando la disney dovesse confermare una cosa del genere potrebbe passare potrebbero passare anni probabilmente uno o due anni la speranza che non facciano invecchiare troppo l'ania dell'orgio perché comunque adesso nel fiore degli anni quindi sarebbe effettivamente un'ottima elsa e ve lo dico ripeto da persona che non è un grande appassionato di di frozen a dirla tutta è un bel film il primo ovviamente caruccio posso comprendere perché abbia avuto un gran successo per i bambini però da un punto di vista estetico effettivamente lei non mi vengono alternative più valide di lei questo lo posso dire tranquillamente e lo si può allora non senza fare body shaming perché io ovviamente adoro anni dell'orgio e l'adoro anche esteticamente è è una delle mie attrici preferite non proprio non tanto come talento ma proprio esteticamente accoppiato anche al talento attoriale sia perché la seguo dall'inizio però da quando è una ragazzina 16 anni 16 e 17 con nel film di eggers lo seguite in ogni sua cosa che ha fatto l'ho anche criticata quando c'era da criticare tipo anni dell'orgio nei panni di furiosa non c'entrava un cazzo questo lo posso dire sincero semplicemente ve lo dice una persona che adora l'attrice in questo caso potremmo trovarci davanti a un'ottima elsa vedete in questo caso il casting potrebbe essere al limite della perfezione sì non solo perché è bionda e ha il viso comunque un po da principessa disney fisicamente anche un po così gli occhi sono abbastanza distanziati esattamente come froze è una caratteristica estetica di di come io e la sezza lei come si dice come l'alzazza in testa che non e che come di non riesco a domare lei agli occhi più distanziati del della media questo possiamo dirlo senza fare bodyshame che è una caratteristica che lei conosce molto bene e quindi da un punto di vista di casting l'idea mi piace mi piace meno l'idea di per sé di un live action di frozen io credo che il successo di frozen sia il fatto che sia un film d'animazione proporlo come live action potrebbe esattamente come il re leone lo ricordate il live action del re leone certo che ce lo ricordiamo tutti ha fatto cagare almeno almeno ha fatto cagare perché gli animali il stile documentaristico che parlavano come cristiani normali non mi hanno restituito assolutamente nulla e avevano perso quelle quell'empatia che invece tu puoi provare per gli animali in animazione che hanno dei visi molto più espressivi quindi la perdita di espressività per me è stata cruciale per il live action di re leone è la stessa cosa prende sarà pure per mufasa che uscirà a dicembre ora è vero che il truze non ha animali forse al pupazzo di neve potrebbero farlo in computer grafica non lo so ha però bene o male personaggi carne e ossa che quindi possono essere riproposti interpretati da attori in carne e ossa però non lo so l'idea non mi entusiasma perché ripeto l'esperienza ci dice ci insegna che riproporre live action di grande successo sulla fin di animazione di grande successo in live action è un'operazione che nella maggioranza stragrande maggioranza dei casi tranne rarissimi casi tipo se non sbaglio uno dei mie live action preferiti era o come si chiama cenerentola o uno simile non quella come emma watson un altro film non mi ricordo però quale non mi ricordo esattamente quale che ci sarà uno della vecchia di la disney che forse veramente ho apprezzato la bellella bestia tanto la bellella bestia quello che ma watson allora cenerentola e cenerentola anche quello di come ma watson mi è dispiaciuto affatto devo dire la verità sono tra i pochi che riesco ancora ad apprezzare ci sono anche altri quello con emi cosa di con l'altrice rossa che ha fatto incanto di improvviso di incanto una cosa del genere che con quella di a rai ma esatto è con la emi emi adams con emi adams quello è uno dei miei dei miei live action preferiti esatto allora è un'operazione rischiosa lo sappiamo potrebbe essere interessante perché effettivamente la il cast potrebbe castando la taylor gioia potrebbe essere interessante però io non lo so non so se non sono sicuro che si prenderanno sto rischio che comunque fare un progetto del genere con taylor joy come protagonista un che è una spesa potrebbe essere una spesa non indifferente però di sicuro i soldi li fanno perché figuriamoci se tutti i bambini del mondo non vanno non andranno a vedere sto film al cinema quindi è un'operazione che al di là di tutto la sua qualità sarebbe di successo secondo me da un punto di vista economico però poi ovviamente vanno fatte altre considerazioni tu che ne pensi andrei allora lei non mi dispiace anche anche a me ha sempre convinto già in tempi non sospetti era un po per la sua fisicità un po particolare questi lineamenti che comunque ti catturavano l'attenzione poi perché la trovo molto espressiva come come attrice quindi mi piace stavo ragionando però sull'età che è un tasto che hai toccato anche tu allora lei mi ha 28 invece stavo pensando sempre rimanendo in tema perché l'abbiamo nominata prima abbiamo nominato il franchise ma non lei ma mi ha fatto venire in mente freya allen allen la la tipa di the witcher la ragazzina bionda lei è un po più minuta anche in termini di proprio di fisica fisicamente la vede di più lei ce la vedo di più un po più proporzionata rispetto a quello che è la la elsa di frozen poi per carità andrebbero bene tutte e due però tra l'età ora che decidono di farlo se lo producono e che lo distribuiscono passano sì a voglia meno meno se seppur volessero annunciarlo l'anno prossimo ce ne parlerebbe in cinque anni almeno quanto sono due o tre anni vuol dire che comunque anni avrebbe più di 30 anni invece freya ne avrebbe 24 25 secondo me più fattibile più sostenibile anche nella credibilità ecco anche perché devi pensare giustamente dobbiamo pensare che il pubblico target di un film così saranno tutti i bambini che hanno visto che sono fan della versione animata e quindi se il bambino è bene bene in mente la versione animata di elsa e poi si va a vedere cioè si vede nel film la trentenne c'è magari qualcosa si dissocia un pochino dal no a quell'effetto del re leone dici sì però io me lo volevo non fotorealistico mannaggia ladra c'è questa roba che ti fa un po sbarellare ecco quindi ci vedrei meglio una freya però lei se li porta bene con quegli anni e secondo me potrebbe non essere così pesante per quanto comunque possa essere un problema e io ti ci metto come carta anche la tipa come si chiama quella di house of dragon ma la ragazza giovane la principessa la legge non mi ricordo il nome però mi ricordo aiutateci avete capito che intendo la versione della regina ma non come si chiamano renira vecchia la renira giovane il nome al coq lilly al coq che io apprezzo tantissimo che ha dei belinamenti curati molto eleganti è brava come attrice si sono d'accordo loren